Ciao a tutti. Benvenuti sul nostro canale. Oggi parliamo di una notizia scottante che sta facendo scalpore in questi giorni. Fabrizio Corona è di nuovo nei guai. Ed è indagato dalla procura di Milano. Vi racconteremo tutto sui dettagli di questa nuova indagine. Quindi rimanete sintonizzati. In quest'ultima settimana, Fabrizio Corona ha fatto delle dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio italiano. Ha parlato del coinvolgimento di alcuni giocatori di Serie A nel caso calcio scommesse. Tra cui Stefano El-Sharawi e Nicolò Casale. Queste parole hanno portato alla presentazione di querele da parte dei due calciatori. Che giustamente hanno cercato di difendere la loro reputazione. La procura di Milano ha preso seriamente queste accuse e ha aperto un'indagine contro Fabrizio Corona per diffamazione aggravata. Stiamo seguendo da vicino questa vicenda per tenervi aggiornati su ogni sviluppo. Ecco. Ragazzi. Questa è la situazione in merito all'indagine su Fabrizio Corona per diffamazione. Se volete rimanere informati su questa storia in continuo sviluppo e su altri argomenti interessanti, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici. Vi ringraziamo per averci seguito. E ci vediamo nel prossimo video.